Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Sarà il generale Luciano Garofano a ricostruire per conto della procura di Pordenone la scena del brutale omicidio di Marcella Boraso, 59 anni, di Porto Gruaro, uccisa in bagno a colpi di martellate in testa nel luglio 2020. In carcere, accusati di omicidio, ci sono due giovani immigrati marocchini, Vail Boulaied, 23 anni, arrestato dai carabinieri di Porto Gruaro, 24 ore dopo il delitto, e Mohamed Rabin, 21 anni, sottoposto a misura cautelare successivamente. Su questa ultima posizione ci sono ancora molti elementi da chiarire. Lo stesso tribunale del riesame aveva sollecitato agli inquirenti ulteriori attività di indagine, ritenendo che la chiamata in corretà fatta da Boulaied avesse una attendibilità molto vicina allo zero. Il sostituto procuratore, Carmelo Barbaro, si è affidato all'ex comandante delle risse di Parma, che ha chiesto di poter effettuare un sopralluogo nell'appartamento Ater della vittima in via Croce Rossa a Porto Gruaro per osservarne la disposizione e in particolare esaminare il bagno in cui è stata uccisa. Si è trattato di un'attività che non ha richiesto il coinvolgimento delle difese, in quanto il consulente del PM non ha effettuato accertamenti irripetibili. A gennaio, invece, un accesso nell'appartamento è stato fatto dal difensore di Rabin, l'avvocato Gaetano Vinci. Il legale ha avviato indagini difensive avviandosi a Michele Bianchette, ex carabinieri in pensione, esperto in rilievi di polizia scientifica, e al medico legale Barbara Polo Grillo. I consulenti hanno documentato la scena del delitto e cercato eventuali tracce. L'obiettivo di Vinci è dimostrare che da parte di Rabin non vi è stato un concorso materiale del delitto, che tra i due non vi era alcun accordo e che il movente della rapina non esiste. Il 3 aprile, nei laboratori del RIS di Parma, i reperti saranno analizzati. L'ex numero uno dello stesso reparto dei carabinieri ieri si è intrattenuto a lungo a Porto Gruaro, dove ha raccolto gli indizi con cui i militari del nucleo investigativo di Mestre e i colleghi dell'operativo della locale compagnia hanno inchiodato i due connazionali. Secondo gli investigatori, Mohamed Rabin e Vail Boulaied avrebbero ucciso Marcella Boraso perché lei aveva scoperto che uno di loro aveva tentato di rubare all'interno della sua camera da retto. Dopo un principio di incendio nel suo appartamento, fu scoperto il cadavere della donna con il cranio fracassato. Gianluca Falcomar, sindaco di Cinto Caomaggiore e presidente della conferenza di sindaci del Veneto Orientale. Ieri avete fatto l'incontro tra voi e in presenza c'era Brugnaro, il sindaco metropolitano e il sindaco di Venezia. Quali sono gli argomenti importanti che avete trattato ieri e che ha avuto anche la presenza del sindaco metropolitano? Beh, in realtà è stata anche una lieta sorpresa perché non era programmata la presenza di Brugnaro, anche se da oggi in poi, come in realtà lo era anche prima, ma adesso lo faremo con una certa calorosità, è stato comunque invitato. I temi che quindi avevamo sviluppato in realtà erano una normale, ordinaria conferenza sindaci della Veneto Orientale. Sono temi che poi in realtà hanno calzato a pennello con la presenza dello stesso sindaco metropolitano. Il primo è stato il regolamento fitosanitari, un regolamento che stiamo caldeggiando e preparando da qualche tempo e lo stesso Brugnaro ha espresso il desiderio di condividere questo materiale alla città metropolitana perché possa diventare un caso pilota per tutta l'area. Ma molto più interessante sono gli altri argomenti che abbiamo trattato, sono quelli della viabilità e del master plan delle piste ciclabili. In quanto all'ordine del giorno avevamo un aggiornamento sotto questo punto di vista e fatalità erano argomenti che volevamo condividere allo stesso sindaco. Quindi sulla viabilità abbiamo parlato di quello del nostro progetto, ovvero quello di creare un master plan della viabilità della Veneto Orientale che interessa l'asse autostradale, l'asse delle strade ANAS, le strade di Veneto Strade barra le regionali, le strade provinciali metropolitane e poi le stesse comunali a maggior transito. Quindi un master plan che possa diventare un po' il nostro documento guida per tutte le scelte che faremo da qua nei prossimi decenni. Questo documento è un documento che non serve tanto a noi o meglio perché noi possiamo fare degli interventi finanziati dai comuni. Questi sono interventi molto importanti. Quello che abbiamo detto a Brugnaro è che noi facciamo un lavoro di coltello, ovvero noi facciamo una sintesi a livello territoriale, metabolizziamo tutto ciò che c'è da fare, scontri, confronti, noi facciamo tutto quanto e portiamo questo risultato alla città metropolitana così che essa possa assorbirlo all'interno di quello strumento che è il piano strategico metropolitano. Quindi è quello l'asse, il contenitore che noi intendiamo utilizzare per portare avanti le nostre progettazioni. L'altro aspetto che è stato un po' più generale è il tipo di rapporto che c'è tra Venezia Orientale e città metropolitana e comune di Venezia. Brugnaro suggeriva di non chiudersi all'interno della nostra realtà perché da soli si muore. Quello che abbiamo tenuto a far presente il sindaco metropolitano è che la ricerca di contatto che abbiamo avanzato nei suoi confronti, già la mia predecessora l'aveva fatta la sindaca di Musile Susanna già da ottobre, è proprio questo il nostro intento, sviluppare i rapporti con la città metropolitana. Sicuramente siamo un territorio che tende ad avere un'autonomia un po' differenziata, ma di fatto, ma sicuramente non siamo un territorio che vuole lavorare da solo, anzi noi abbiamo bisogno della città metropolitana. Città metropolitana che questi anni in realtà non è che si sia sentita molto. Quindi molte sono le aspettative che lo stesso Brugnaro ha condiviso a noi e sono quelle che noi ci aspettiamo per i prossimi anni. Si è parlato quindi di collaborazione, come fare collaborazione? Il sindaco Brugnaro ha suggerito comunque di utilizzare, di adoperarsi con gli strumenti già in atto, ovvero con i consiglieri metropolitani. La presenza di Saverio Centenaro ieri era una garanzia da questo punto di vista e oltre al consigliere metropolitano la già sindaca senatori di Portogruaro. Quindi Brugnaro ci ha fatto intendere che questi strumenti perdureranno negli anni. L'altra cosa che abbiamo avanzato e questa è stata una nostra proposta è attivare una cabina di regia con il sindaco della città metropolitana perché è difficile lavorare, lo sappiamo tutti quanti con 44 sindaci contemporaneamente e soprattutto efficacemente. Quello che ci proponiamo, lo dicevo poco fa, è che noi vogliamo fare sintesi. Un rappresentante della Venezia orientale, un rappresentante del miranese, un rappresentante della riviera, ecco un rappresentante del Comune di Venezia, lo stesso sindaco, possono essere quello spazio che ci permette di far sintesi tra le nostre necessità e le strategie. E poi noi stessi saremo l'albero di trasmissione di questa collaborazione con le amministrazioni. Lo facciamo volentieri perché è il nostro territorio, quindi abbiamo tutta la volontà di collaborare con la città metropolitana. Code e disalgi al punto vaccinazione di Porto Gruaro sono state ore critiche quelle che hanno aperto ieri l'attività vaccinale al centro Pollings dell'Eastgate Park. Nel primo giorno di prenotazione online, che assegnavano un orario preciso alle persone che erano interessate, in questo caso l'invito era rivolto alle classi 44 e 45 del mandamento, in tantissimi si sono presentati in anticipo, prendendo d'assalto l'area e creando code e assembramenti. Una situazione che si è protratta fino alle 11 quasi, poi è andata via via migliorando. Tuttavia, si sono state tensioni tra gli utenti che con difficoltà sono state risolte dai volontari della protezione civile. L'azienda sanitaria ha rivolto un appello ai cittadini affinché rispettino gli orari dell'appuntamento. Invitiamo chi deve presentarsi, dicono da Luz 4, a seguire le stesse regole vigenti per le visite e gli esami in ospedale, e cioè presentarsi solo 10 minuti prima dell'orario fissato. Ciò per evitare di stazionare troppo tempo sotto il sole, in auto o davanti all'ingresso. Così facendo, si evitano code e assembramenti e si agevola il lavoro del personale sanitario e degli stessi volontari impegnati a gestire l'afflusso. Critica per la situazione che si è venuta a creare, sono state espresse anche dal Partito Democratico. Qualche casebo e maggiore organizzazione avrebbe aiutato, dicono. Si fanno proiezioni del numero di persone che dovranno accedere al centro, se ce ne sono troppe necessario che le regioni e l'Ulse individuano anche un'altra struttura per il Porto Uruarese. Sicuramente è ridicolo essere in zona rossa e dover stare chiusi a trovare nei centri vaccinali queste situazioni. Ieri a Porto Uruaro sono state immunizzate 550 persone. Oggi era il turno dei grandi anziani, quelli che hanno più di 85 anni, che risiedono nei comuni di Annone Veneto, Fossalta di Porto Uruaro, Cinto, Cua Maggiore e Teglio Veneto. 800 persone che impegneranno il team sanitario e volontari per gran parte della giornata. A loro invito è stato consegnato a domicilio. E intanto, per tutti coloro che fossero in possibilità di non prenotare attraverso il portale della regione, il Comune di Porto Uruaro ha predisposto un ufficio per l'assistenza. L'ufficio collocato al piano terra del Palazzo Municipale sarà attivo da martedì 6 aprile tutte le mattine della lunedì e venerdì dalle 9 a mezzogiorno. Il servizio è rivolto ai residenti e si può accedere anche telefonicamente allo 0421 277 226. Quanto c'è la nuova tabella per i vaccini per i residenti nel Veneto orientale, valida dal 5 al 9 aprile. Lunedì a San Donà grandi anziani dalle 8.30 alle 14.30. A Porto Uruaro grandi anziani di Porto Uruaro e Pramaggiore dalle 8.30 alle 20. Martedì sarà la volta a San Donà dei grandi anziani dalle 8.30 alle 14.30. A Porto Uruaro i grandi anziani di San Michele al Tagliamento dalle 8.30 alle 18.30. A Jesolo i nati nelle classi 1942-1951 dalle 8.30 alle 14.30. Si passa poi a mercoledì a San Donà le persone fragili e disabili dalle 8.30 alle 17. A Porto Uruaro i grandi anziani di San Stino dalle 11 alle 16.30. Giovedì a Porto Uruaro le persone fragili e disabili dalle 8.30 alle 17.00. A Jesolo fragili e disabili dalle 8.30 alle 15.00. E infine venerdì 9 a San Donà soggetti fragili e disabili dalle 8.30 alle 15.00. A Porto Uruaro seconda dose per gli anziani dalle 8.30 alle 12.00. A Jesolo fragili e disabili dalle 8.30 alle 16.00. Le persone con più di 80 anni non devono prenotarsi online. Nuovo portale regionale accessibile anche dalla pagina us4veneto.it che consente con pochi passaggi di prenotare online. Perché ricevono infatti l'invito direttamente a casa. Vista la disponibilità di vaccini si possono attualmente prenotare i nati dal 1942 al 1951 che non siano già stati contattati dal proprio medico di medicina generale. persone estremamente vulnerabili e con disabilità gravi. Per chiare menti, sulla appartenenza a queste categorie, i cittadini possono fare riferimento al proprio medico. Per le prenotazioni online è stato realizzato anche un tutorial diffuso sui social. Nelle sedi vaccinali di Jesolo e San Donà sono state montate anche delle strutture per riparare le persone in coda. Tema prenotazioni, vaccinazioni. Intanto va detto che continua il Comune di San Michele a Tagliamento ad accogliere quelle istanze dei cittadini i quali hanno difficoltà a prenotarsi attraverso il CUP online. Sto parlando delle classi 1944 e 1945. Per adesso abbiamo raccolto 16 istanze. Va detto che le 7 di ieri hanno ricevuto l'avviso a casa di prenotazione. Quindi bene, il sistema funziona. Le 9 di oggi verranno trasmesse immediatamente stasera. Quindi sperando che poi vengano ricontattate attraverso messaggio, normalmente per telefono, per la successiva convocazione, l'avviso di convocazione. Grandi anziani. Le persone cioè degli 85, 86, 87 anni in su. Queste persone riceveranno l'invito da parte della protezione civile. Siccome gli inviti sono moltissimi, si parla circa di 500 persone, ecco io dico a tutti aspettate con pazienza e arriveranno gli inviti presso la vostra abitazione. Ripeto, da parte dei nostri volontari che ringrazio sempre. La vaccinazione di queste persone è per martedì 6 aprile dalle ore 8 e 30 alle ore 18 e 30. Cioè martedì 6 aprile è riservato al comune di San Michele a Tagliamento la vaccinazione per i grandi anziani. Sto parlando sempre a Portoguaro presso il Polins o l'East Gate come dir si voglia. Mi hanno raccomandato molto i medici di non arrivare troppo tempo prima. Basta un quarto d'ora prima dell'ora che voi leggerete nella lettera. Non presentatevi un'ora, un'ora e mezza prima. Uno perché bisogna stare in fila, insomma è disagevole. E poi perché c'è un appuntamento e ripeto un quarto d'ora prima è più che sufficiente essere sul posto. Naturalmente come dicevo l'ora la trovate scritta nella lettera che vi verrà consegnata. Per quanto riguarda le persone fragili e disabili, l'appuntamento è giovedì 8 aprile dalle ore 8 e 30 alle ore 17. Qui bisogna prenotarsi online. Ricordo il sito per quanto riguarda le vaccinazioni online è www.vaccinicovid.regione.veneto.it Ripeto www.vaccinicovid.regione.veneto.it Ecco, attenzione, si ricorda che la prenotazione viene accettata dal sistema solo per le categorie indicate. La prenotazione online è disponibile per adesso fino alle sedute vaccinali del 9 aprile 2021. Quindi riepilogando, le persone che hanno da 70 a 79 anni, ovvero i nati dal 1942 al 1951, possono cominciare a prenotarsi se non sono già stati contattati dal proprio medico di famiglia. Se, ad esempio, domani mattina si dovesse prenotare una persona del 51 è chiaro che il sistema non la riceve perché non è ancora nel programma di vaccinazioni. Quindi fate con calma questa prenotazione online e aspettate il momento in cui la vostra classe di nascita è prevista nel programma di vaccinazione, qualche giorno prima della effettiva vaccinazione. Sergio Stocco, editore di Vivi Jesolo, da cosa nasce l'idea dell'audiorivista? Allora, Vivi Jesolo da sempre ha cercato di essere uno strumento di informazione utile e funzionale per ospiti e residenti della località. Da quest'anno, forti anche delle continue richieste da parte dei lettori di avere più numeri, abbiamo voluto integrare la versione cartacea con uno strumento online che fosse realmente efficace. Quindi, credo forse per la prima volta in Italia, per quanto riguarda le riviste turistiche, ci sarà la possibilità di leggere Vivi Jesolo o di ascoltarlo comodamente in riva al mare oppure nelle condizioni più disparate in cui si trova il turista oppure il residente della località. Come si accede? Insomma, come funzionerà l'audiorivista? Dall'audiorivista si potrà accedere attraverso dei QR code che saranno inseriti all'interno del giornale, che saranno distribuiti in tutta la località, stiamo già attivando degli accordi per essere presenti in maniera massiva, soprattutto sulla spiaggia, o semplicemente attraverso il sito viviesolo.it. Naturalmente questo diventa un servizio anche di inclusività, cioè rivolto ai non vedenti. L'idea iniziale è nata proprio per questo, avevamo la necessità o la volontà di essere quantomeno etici, quindi di far accedere ai contenuti di Vivi Jesolo non solo alle persone vedenti, ma anche ai non vedenti. Poi l'idea in qualche modo si è trasformata, abbiamo visto che ha incontrato il gradimento di tutte le persone a cui proponevamo questo nuovo servizio e quindi il progetto si è ampliato. Quindi da questo momento a Vivi Jesolo potranno accedere tutti, compresi ovviamente le persone, gli ospiti di lingua tedesca e di lingua inglese. Da quando sarà disponibile l'audio rivista? Insomma, il primo numero quando uscirà? Noi presenteremo e saremo operativi con l'audio rivista a partire dal primo numero in uscita il primo di aprile. Spero di vederli tutti quanti a leggere o ad ascoltare Vivi Jesolo. Un premio di 2.500 euro lordi a 3.000 collaboratori. A riconoscere ora il gruppo Nestlé Italia che ha spiegato come il bonus sia il più alto che l'azienda, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha voluto corrispondere negli ultimi anni nonostante l'andamento negativo del mercato fortemente segnato dalle difficoltà della pandemia. Il gruppo Nestlé, presente in 187 paesi con più di 2.000 marchi tra globali e locali, è l'azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la nutrizione, la salute e il benessere delle persone. A Porto Gruaro, al Pipe Noiare di Summaga, è attivo lo stabilimento Nestlé Purina dove operano 250 dipendenti impegnati in dieci linee di produzione su diversi prodotti secchi dedicati a cane e gatto venduti sotto diversi brand del portafoglio Purina. Sono particolarmente orgoglioso della dedizione con cui i nostri collaboratori a tutti i livelli e in tutti i ruoli, ha affermato Marco Travaglia, amministratore delegato Gruppo Nestlé Italia e Malta, hanno svolto il loro lavoro garantendo la disponibilità dei nostri prodotti anche nelle fasi più critiche della pandemia. Questo premio rappresenta un importante riconoscimento dello straordinario impegno condiviso da tutte le nostre persone nell'anno più difficile di sempre. Il premio va ad aggiundersi a un piano di welfare aziendale straordinario dedicato ai collaboratori che hanno assicurato la piena continuità del business durante tutto lo scorso anno e che costituisce uno degli elementi principali del fab working. Questo nuovo modello di lavoro, evoluzione dello smart working, è orientato alla flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa, alla adattabilità in termini di definizione di obiettivi e way of working e al bilanciamento tra il lavoro da casa e quello in ufficio. Per supportare questo approccio Nestlé ha deciso di fornire ai colleghi la possibilità di ricevere a casa un kit di strumenti informatici, una sedia ergonomica e convenzioni per la connessione Wi-Fi. Nestlé ha inoltre realizzato un apposito programma di tutela della salute rivolto a chi lavora costantemente da remoto che prevede sportelli di consulenza ergonomica, psicologica e nutrizionale liberamente accessibile a tutti nonché training online con particolare focus su consigli per le pause e la disconnessione per migliorare la propria postura e per evitare l'affaticamento della vista. Infine Nestlé ha stipulato una polizia assicurativa per i rischi derivanti da Covid-19 e continua a fornire uno screening tramite tamponi e test sierologici per tutte le sue persone. Alessandro Righi, sindaco di Motta di Rivenza, candidata a Comune Europea dello Sport da cosa viene questa candidatura? Beh, oddio, questa candidatura viene dal nostro territorio perché è un territorio ricco di associazioni sportive che lavorano quotidianamente con grandissimi risultati sia educativi che sportivi e quindi è un giusto riconoscimento a tutto il nostro territorio. Dunque, prima citavamo con l'assessore Breda appunto che qui ci sono società di livello internazionale, nazionale abbiamo citato sia il patinaggio che ha fatto gli europei o la pallavolo Motta che sta in questo momento facendo i playoff speriamo salire in A2 ma tantissime altre realtà, delle arti marziali al basket, insomma c'è di tutto di più, dalle bocce ricordiamo che sono sport magari un po' minori ma qui a Motta hanno fatto numeri, insomma hanno vinto qualcosa ecco, questo biglietto da visita di tutte queste società sicuramente è molto appetibile perché vi presentate con un partè enorme per un paese di 10.000 abitanti, poco più Certo, la nostra candidatura è molto forte perché è un territorio fertile dal punto di vista di situazioni sportive anche grazie a un'abbondanza di strutture sportive che hanno permesso il sorgere di tanto sport in tante tante discipline Rosanna Conte, eurodeputato della Lega e referente per il Veneto di Access Europe allora lei è qui per sostenere Motta in questa candidatura Access Europe intanto è un'associazione no profit che dal 2001, Consiglia Bruxelles, è stata incaricata di consegnare i premi alla Capitale Europea dello Sport e di conseguenza dopo ha esteso anche alle città europee dello sport ai comuni europei dello sport, alle comunità europee dello sport e alle isole europee dello sport qui oggi ho voluto fin dall'inizio sostenere questa candidatura a Motta di Levenza come comune europeo dello sport la differenza varia a seconda del numero della popolazione quindi sarà un percorso difficile perché è un percorso che ci sono altre sette comuni che gareggeranno, parteciperanno ma sono convinta che Motta possa farcela perché ha tutti i requisiti per le carte regola per poter accedere a questo ambito traguardo che è importantissimo per il Veneto e Motta diventerà sicuramente un fiore all'occhiello della zona trevigiana avremo anche nel 2022 Treviso però come città europea dello sport e tutto questo sarebbe un bellissimo traguardo per il Veneto stesso in quanto la regione del Veneto potrebbe poi successivamente candidarsi come regione europea dello sport i principi base di ACES che è questa associazione che dà questi riconoscimenti sono basati sulla responsabilità e sull'etica e quindi loro si può dire che lo sport è un modo per aggregare per aggregare, utile per l'integrazione per aumentare la qualità della vita e aiutare anche la salute ovviamente per chi fa sport per cui è fondamentale sviluppare nel territorio queste modalità in modo tale, ed è bellissimo farlo nei comuni perché così i sindaci saranno promotori vicini con i cittadini per un maggiore sviluppo anche a livello territoriale Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24 ci fermiamo con questa edizione torneremo con le altre nel corso della giornata rimanete con noi, alla prossima